Sì, c'è la morta delle panini. C'è il problema. Stanno consumando un rullino. Stanno consumando un rullino per fare questa cosa. E' vero. Ma che sono tui? Toreros! Faccia andare? E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. Oh, sì. Mamma, mi ha giocato la soppressa. Mi sto commuovendo. Sente. E' una parte bella qui. Sì? Si è rimasta nella piazza. Davvero? Mi perdete di aspettare. Sì, partete di aspettare. Non mi perdete. Te la soppressa. Te la soppressa. Te la soppressa. Te la soppressa. Questo è il tuo padre. E' diverso, vedi? Ok, questo è il mio padre. Questo è il tuo padre. E' diverso. Oh! Ahahah! Ahahah! Vedi, l'uomo deve portare le buste. Io ve li sono picchiettate. No, aspetta che ci siano le buste che mettiamo dentro... Io le ho portate queste, per le bomboniere. Perché quando avanza qualcuno mi deve dare a me. Ok. Io, Antonello, accolgo te Carolina come mia sposa e prometto di esserti, e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia, nel dolore. Nella salute, nella malattia. E di amarti e di donarti per tutti i giorni della mia vita. E di amarti e di amarti e di amarti e di amarti. Questa è un grande. No, 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 no. A verrà poco perché non mi приvole! Ehi! 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 Ehi!